Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Strumenti virtuali per smartphone e tablet. Autore Giuseppe Zella, Libri Sandit è l'editore e il costo è 14,90 euro. È un volume importante con oltre 230 pagine. Grazie per l'attenzione e se volete continuare a seguirci potete seguire il nostro sito web www.elettronicadidattica.com oppure iscrivervi al nostro canale Elettronica Didattica. Grazie e vi aspettiamo con un nostro prossimo video. Saluti da Elettronica Didattica. Grazie. 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 Grazie.